con i gatti seduto seduto che ci abbiamo la rete seduto facciamola fuori si può sedere sulla panchina seduto sulla panchina grazie vicino ai gatti davanti i fotografi mi dio mi ammazzano mi ammazzano mi ammazzano ministro 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 di qua da questa parte anche di qua alla tua sinistra ministro prenda lei il gatto telefonino prenda il gatto lei ministro prenda un gatto no dai ministro raga ma perché mi state a spingere? lo accarezziamo il gatto lo accarezziamo il gatto ci guardi ci guardi ci guardi ci guardi ministro ci guardi ministro ci accarezzi il gatto mi ha fatto un gatto mi ha fatto un gatto basta che me la faccio qui forza il gatto non respira più un baggio il gatto ma chau Grazie a tutti.